e poi la resistenza, la resistenza da tutte le parti, a cominciare la cefalonia, a cominciare la resistenza nei campi di concentramento, gente che poteva andare a star bene nell'esercito della Repubblica di Salò con i tedeschi, no! Lì e tutti gli altri per le montagne, nelle strade, nelle piazze, si arriva che finalmente si va alle elezioni e finalmente in questa Italia votano le donne, 530, 532 padri della Costituente e nasce la Costituente, mi ricordo che io ho già avuto 5 cardinali arcivescovi e una volta mi dice ma preghi scherzando, certo che prego, quando voi vescovi fate delle zuppe, girateli qui e dirà prego, però Eminenza io sono dopo le mie preghiere se non ho un'altra preghiera e qual è? E lui è lì tutto intrigante mi dice, sono i primi 12 principi della Costituzione italiana, mi rendete conto, un'altra volta un'altra volta mi dice di che santi sei devoto, io sono figlio di Don Bosco, sei Don Bosco, sei salesiano, però allora Eminenza, io sapevo che nella lista dei santi della Chiesa, no? ci sono i sette santi fondatori di Vicenza, sette mercanti, abbiamo venduto tutto e andato ai poveri, e allora gli dico, Eminenza io vado alla grande, sono devoto di sette santi e lui mi fa, oh che bravo, sei devoto dei sette servi di Vicenza, ma non sono di Vicenza, come non sono di Vicenza, ma nella lista dei santi della Chiesa non c'è, e sì che ci sono, metteteci se non ci sono, quali sono questi sette santi? I sette fratelli servi, è rimasto l'Imer, allora permettetevi un attimo, a dicembre del 47, a dicembre del 47, presenti 515, votano la Costituzione, 90% di voti sì, a proposito di sì e no, poi li tocchiamo, anzi l'assimolo visto che c'è Maurizio Landini, come si chiama più l'amministratore delegato della Fria, Minchione, come si chiama? Dove deve stare? Marchione, mi sbaglio sempre, ma pensa che bella figura questo qui, oh che bravi voi operai, avete scelto lo strumento democratico del referendum pomigliano prima, che bravi, proprio bravi, se votate sì, bene, se votate no e sbaracco tutto, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Attorniamo quindi a questo punto, voglio leggervi un attimo, perché c'è stato che ha sempre resistito, due minuti per dirvi un articolo di Giorgio Bocca, grande partigiano, lo ricordiamo, di giustizia e libertà. titolo, prima pagina dell'Espresso, prima pagina dell'Espresso, 2003, titolo, il fascismo perenne in libera uscita, e come descrive il paese Italia del 2003? Ascoltate, perché di qui dobbiamo partire, ma decisamente, con coraggio, con tutto, a Sicri, per dirvi in che realtà viviamo, a Sicri la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalle tradizioni civili, dalle discipline e dall'educazione, e allora i neri di tutte le specie corrono alla loro sabba, infamie, difamazioni, ricatti, vintà repressi per anni, i rompono come un torrente mermoso, i ladri si vantano di esserlo, i servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti, i servi non hanno più limiti e non hanno obiezioni, gli onesti quasi si vergognano di esserlo, gli esitanti sciolgono gli ormeggi, si precipitano nel brago, perché gli conviene? Sì certo, ma anche perché gli piace, il fascismo perenne è di nuovo in libera uscita, a noi partigiani il generale Alexandre ci diede poi il diploma, se stasera io non sono manco caporale, sia le donne, sia gli uomini che sono qui, non sono manco caporale, a chi lo vuole, io gli do il certificato di partigiana e di partigiano, cosa vuol dire essere partigiano? Sceglie da che parte stare ed ecco, è chiaro che prima deve essere andato in montagna, mentre invece oggi deve esserci partigiani a tutte le parti, i partigiani della Varsusa, i partigiani della base del Dalmolin, i partigiani di emergency, i partigiani, eccolo qua, un comandante di brigata partigiana, Maurizio Landini, sono i nostri primi partigiani, mi devo scegliere, allora vi rendete conto a questo punto, che cos'è adesso? Che cos'è? Andate a vedere la Costituzione, vi spiegherà meglio Landini, anche devi dire, gli articoli ero a Piombino, coi parenti dei lavoratori morti sul lavoro, siamo andati a leggere gli articoli della Costituzione, voi donne sapete che nella Costituzione, correggimi Maurizio, la donna è proprio considerata un lavoro a parità e anche a parità di salario, lo dice già la Costituzione, ma vi rendete conto, è chiaro che la Costituzione nostra prevede l'aggiornamento, ma nel senso sempre della giustizia per tutti e allora una volta l'economia condizionava la politica, adesso l'economia fa la politica, allora chi può fermare? Chi è che può dire ancora? Sei un economista serio, capisci, come lo vedi il governo Monti? Come lo vedo? Sui chiedici del capitale e basta, chiedici, sempre lì, allora sono sempre dato da credere che lo sconto di civiltà è tra l'Islam e l'Occidente cristiano, cosa c'entra cristiano? Falso, ci hanno fatto credere che lo scontro è tra l'economia e la politica, tutti quei che sono al governo, siamo in una crisi mondiale, siamo in una crisi e quindi non possiamo, allora tagli, tagli, ormai il sociale distrutto, no, questa è una bella giornata per dirlo, lo scontro fondamentale è tra economia e democrazia, volete mica dire che questo capitalismo, questo capitalismo abbia ancora una spinta innovativa, abbia una spinta creativa, gli è rimasto la sua essenza, la brama del profitto immediato, ecco perché nascono le grandi opere e poi cammini per il marciapiede, sono mancapposto il marciapiede, capite? L'unica che può fermare l'economia è la democrazia, una presa di coscienza veramente per tutti, questo è il punto fondamentale, prendere coscienza, scoprire, partecipare, la propria coscienza, dire chi ha retorno a chi si incontra, da che parte stai e allora ecco quei diritti fondamentali proprio per tutti e allora sta nascendo, io vado in giro per l'Italia e come qui guarda quanti, quanti e poi allora ricordiamolo Granci e allora ecco che a questo punto mi sale la emozione, la commozione, vedere che ancora allora la resistenza non è terminata, la resistenza non è ancora terminata e allora attenti bene, non lasciamoci poi bloccare di nuovo, cos'era il G8, soprattutto i giovani vorrei toccare anche il 68, quando dicevano sulla testa, era mondiale il messaggio, ma nel G8 che ci hanno macerato tutti, era il grande grido, l'annuncio, oltre 500 mila giovani, signori del G8 non mi sembra una cinica pretesa, di venirsi ancora una volta a dire che l'unico mondo possibile è il vostro, banca mondiale, fondo monetario internazionale, organizzazione mondiale del commercio, avete una divinità unetrina idolatrica, mercato selvaggio, tecnologia sempre a favore del mercato, sempre e allora deterenza totale, quando il nemico non c'è bisogna creare, per l'economia chi è il nemico? le lavoratrici e i lavoratori, è questo, non avete bisogno dei diritti, non avete nessun diritto, articolo 18, e piange il cuore, quando compatti erano così, non volessero, va bene, che ancora rivestono cariche di partito, con valori socialisti, con valori comunisti, con valori cristiani, sono tutti lì proni, quanti li ho visti a televisione? Lei cosa ne dice? a Pomigliano, allora non dico il nome, non mi piace ferire, è un pezzo grosso, dice se io fossi operaio metalmeccanico voterei sì, io ero vicino a un vecchio compagno della Breda di Pistoia, prima di tutto dice, non lo è un operaio metalmeccanico, se non sbaglio ha nove registrature, quindi no, secondo, è mai possibile, quindi guardate, proprio questo bisogno di tirare proprio su la testa, e allora a questo punto proprio riscoprire chi siamo, proprio durante quel G8 mi vennero a trovare il regista Mario Moricelli, al mercoledì, grande Mario Maestro, al giovedì il regista Ettore Scola, penso non l'avevo mai incontrato, Don Gallo lega sempre in mezzo ai giovani, all'inizio del terzo millennio 2001, tutte le agenzie educative, la chiesa, la scuola, riusciremo a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro, ed è questo quello che scrivono i sociologi tutti, io dico che il futuro è possibile, quando ci siamo visti nel 2001, subito dopo luglio, a Porta Alegre, la domanda era, e ve la faccio di nuovo adesso, è possibile un nuovo mondo? Sì! L'anno dopo, eravamo di nuovo lì a Porta Alegre, un nuovo mondo è possibile? E allora, e allora ecco che dobbiamo guardarci proprio negli occhi, e vorrei fare a tutti questi che siete qui, veramente una spingia, perché ormai il partigiano lo possiamo fare tutti, tutti davvero, qualunque parte, qualunque parte, tirar fuori, e allora vorrei fare un brindisi agli organizzatori, a tutti, un brindisi nel senso di che mi hanno insegnato le ragazze dell'est, quelle che sono sotto il racket, coperto dalle varie istituzioni, mi hanno insegnato un brindisi, la parola russa, che dice GBO, GBO è un augurio che deve entrare proprio a tutti, un augurio di liberazione, un augurio proprio di liberazione totale, lo faccio una volta io, e poi lo facciamo tutti insieme, lo faccio una volta io, faccio una bicchiera, fa così, attenti che voglio sentire un urlo dopo, che si sentono almeno dal Vaticano ad Arcore, fa così, GBO, 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 concentratevi tutti e tutte, attenzione, anche tu Maurizio, sindaco, sindaco, tutti, concentratevi, guarda che si deve sentire da Vaticano ad Arcore, attenti, GBO, 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 ciao, 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 ciao amore a tutti, ciao, 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 bello, ciao. Grazie. 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 Ancora un attimo, arrivederci, arrivederci. Arrivederci stella rossa la brigata, arrivederci partigiani di tutto il mondo, arrivederci bandiera rossa.